Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePah17 e oggi siamo tornati su Mario Kart 8 per Wii U Ok ragazzi, come promesso, eccoci qua, giovedì 29 ottobre, sono le ore 18 e 30 e sono online pronto a giocare con voi il torneo Halloween Perfetto ragazzi, eccoci qua, oggi giocheremo il torneo Halloween, quindi ragazzi vado a prepararmi e ci vediamo direttamente sulla griglia di partenza della prima gara Ok ragazzi, eccoci qua sulla griglia di partenza però della seconda gara di oggi, purtroppo ho avuto un piccolo problema nella prima gara È crashata la linea internet, quindi ho praticamente dovuto spegnere la console e riavviare tutto Perfetto, visto che alcuni di voi hanno già dei bei punteggi Perfetto, piantina Vai che facciamo una strage, vai che... no Ok, buono Vai piantina Ok, devo stare attento e derappare correttamente No, ho derappato la parte sbagliata, accidenti, accidenti ragazzi, ok Non un grande inizio, è non un grande inizio però posso recuperare Ok, sono tornato in ultima posizione Però abbiamo un ottimo assetto questa sera, abbiamo veramente un ottimo assetto Ok, non ho preso il saltino Stellina Possiamo andare velocissimi Ok, buono Attenzione alla cassa Ok, funghetti Perfetto Brutte curve Ok, devo frenare tantissimo ragazzi, devo frenare tantissimo Ok, dobbiamo prendere le monetine però Altri funghetti Sfruttiamoli qua Vai Ok Dai che sto recuperando, dai che sto recuperando Se mi arrivano i power up giusti ragazzi posso recuperare un sacco Oddio che salto, oddio che salto signori, oddio che salto No, la banana no Ok, l'ho evitata per un pelo Ho recuperato Ale Eh, sono lungo Ok, devo anticipare tutte le derappate Se no rischio di toccare sempre i bordi Ok, mi sono incastrato Ok Siamo già nell'ultimo giro signori Siamo già nell'ultimo giro Ho il sesto e il quinto lì davanti Ok, buono Fammi atterrare bene Caspita Ale È capitato il pallottolo Bill Ok, devo accontentarmi della settima posizione Accidenti ragazzi Vince PG Crisi Poi non ho visto gli altri nomi ragazzi Mi sembra Gabri secondo Passiamo alla prossima corsa ragazzi Perfetto signori Terza corsa di oggi Siamo mi sembra nello stadio di Mario Kart Qui non posso sbagliare Vai, buona partenza Buona partenza Vedo che anche voi ragazzi possedete Gli Amiibo Perché vedo delle tute Uguali alla mia Io sto usando in questo momento Prendiamo un po' larghi Prendiamo questi Magari evitando anche la banana Grazie Ok, sono dietro ad Ale Uso un funghetto qua E ne ho ancora uno Ne ho ancora uno Buona, buona curva Buona curva signori Buona curva Dai che sto recuperando Mazza ho visto all'ultimo la banana Ragazzi Ho visto all'ultimo la banana No, mi sono schiantato Dammi Ok Sono scivolato indietro di nuovo però Sono scivolato indietro di nuovo Ok Tagliamo tutto F splatter Si è bloccato lì Ok Ok Funghetti di nuovo Attenzione Attenzione No, 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 no Ok, ok Accidenti Che arrivo in volata Stavo per fregare Donkey Kong Il Donkey Kong di Bunny K Però è riuscito a fregarmi lui E arrivo in ottava posizione Ragazzi Bella gara Veramente bella gara Peccato star sempre dietro Però devo scaldarmi un attimo Ok signori Eccoci qua Quarta corsa di oggi Partiamo dalla seconda fila Qui l'altra volta avevo fatto un bel risultato eh L'altra volta che abbiamo giocato un torneo 200cc Quindi spero di riuscire a ripetermi No Oddio ragazzi che salvataggio Oddio che salvataggio Mamma mia che salvataggio Ok Perfetto Prendiamo tutti questi qua Oh finalmente un power up Ok Funghetti Abbiamo tutti quanti i funghetti Si atterra subito Mazza che casino signori Che casino Non ci vuole niente da arrivare davanti qua Che casino Che casino Dai che sono in sesta posizione Lì davanti Ne ho tre Ok che salvataggio prima signori Che salvataggio Ok funghetti Bisogna frenare un sacco ragazzi Bisogna frenare un sacco Dai che me la sto giocando con i primi Me la sto giocando con i primi C'è splat simo lì davanti Ho bunny cake Che mi sta marcando stretto Bella gara signori Bella gara Veramente una bella gara Qui non derapiamo Derapiamo qua Grande Sono riuscito a prendere il power up Attenzione al guscio blu Ok L'abbiamo evitato tutti e due Funghetto Ultimo giro Ultimo giro No Ok Siete tutti vicinissimi Dietro No Chi è che mi ha toccato Chi è che mi ha toccato ragazzi Chi è che mi ha toccato Accidenti Dai che devo recuperare È una pista che conosco abbastanza bene No Non piantarti così però Ok Abbiamo evitato una banana Per un soffio No Stavolta sono volato fuori io Ho sbagliato proprio la manovra ragazzi Ho sbagliato la manovra Ok Mi sa che arriverò a metà classifica Vai Vai Ok Sesto ragazzi Sesto Peccato Bella gara Vince Crisi Secondo splatter Terzo Leo Poi tutti gli altri La classifica generale è questa Sono penultimo Però purtroppo mi mancano anche i punti di una gara Prossima corsa ragazzi Perfetto signori Quinta corsa di oggi Ah quello che è davanti a me Guardate che bella tuta che ha Chissà di che personaggio è Siamo sul monte Wario Secondo me questa qui è una pista perfetta Da fare in 200cc Sono riuscito anche a prendere un power up Non ci credo Non ci credo In mezzo a tutto il casino Sono riuscito a prendere un power up Ho lanciato un guscio A caso Non ho preso nessuno però Mi sa Non ho preso nessuno Ma Sì Mi sono pure bloccato contro una parete rocciosa È a 200cc E dura ragazzi A 200cc E dura Qualcuno è volato fuori Curva a gomito Vedo gente volare fuori dal tracciato Siamo tutti vicinissimi Buono No accidenti Esplosa una bomba Ha fatto una strage Ok Vai vai Terra qua sopra Grande Ok mi sto dando una mano con Bunny K No sono lungo Eh siamo arrivati lunghi in In 10 praticamente Ok buono Dammi un buon power up Perfetto Lo sfrutto all'ennesima potenza Lo sfrutto Mi lancio in mezzo alla foresta Traggio lunghissimo Evitiamo magari le piante Grazie Ho preso tutto quello che c'era Mi avete già recuperato Praticamente non ho guadagnato nulla E sono già in ultima posizione di nuovo E vai E vai Ok Che casino E il fungo dorato però Non va benissimo Ok E niente da fare Bruttissima gara Bruttissima gara signori Bruttissima gara Mi sono Eeeh Non ce la faccio più Non ce la faccio più A meno che non mi esca un power up Eccellente Non mi salvo Da qua ho evitato anche una banana Incredibilmente Non so neanche come ho fatto Mi continua ad arrivare questo Però mi sa che oramai Non me ne faccio più niente L'ho pure perso Niente Mi sa che dovrò accontentarmi Dell'ultima posizione Perché vedo che siete arrivati Già tutti quanti E siete arrivati già tutti quanti Niente Troppi errori Troppi errori all'inizio Da parte mia Niente da fare Vince Gabri Secondo crisi Terzo Ale Questa qui la classifica generale Troppi errori in questa gara ragazzi Brutta brutta gara Signori Eccoci qua per la sesta corsa di oggi Pista reale Partiamo praticamente Dalla penultima posizione La lobby è piena Siamo in 12 Fantastico Veramente fantastico Abbiamo quasi tutti la tuta di Mario Quindi più o meno tutti quanti possediamo l'amiibo di Mario Buona partenza Mi porto subito tra le prime posizioni Prendo anche un power up Ottimo Ok Attenzione qua Funghetto che io sfrutto addirittura in seconda posizione Attenzione Terzo Eh potevo sfruttarla lì Infatti In 4-5 L'avete fatto Però io esco strettissimo E parto all'attacco Per andare a prendere quello là davanti Chissà chi è Chi sa chi è Signori Chissà chi è Attenzione Leo mi è apparso davanti di colpo Ok Spero di non avere problemi alla connessione internet Ok Mamma mia Ho sfiorato il guscio spinato Di nuovo ho mancato quel power up lì Tagliato Bisogna frenare qua un attimo Anche qua Ok Bella gara Bella gara questa qua Ok Sto strettissimo Ok Li lancio avanti Li lancio indietro Ovunque Tocchiamo pure la mongolfiera Bella Bella curva signori Bella curva È una bella gara questa qua È una bella gara Ok 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 volevo tagliare Ho sbagliato tutto Spero di non Danneggiare troppo la mia prestazione Arrivo vicinissimo alla pianta Infatti Accidenti Quell'errore lì Mi sta costando parecchio caro No vabbè dai Ho recuperato abbastanza Eeeh Lentissimo qua Lentissimo Sono finito indietro Sono finito indietro Molto indietro Molto indietro Troppo indietro Ok Qui bisogna anticipare Ok Peccato che sono caduto indietro Ok Attenzione Sesto mi sa Dai che sono sesto Sì Dai Ho sfiorato il podio In questa gara qua Però arrivo comunque a metà classifica Bella gara signori Bella gara Vediamo come sono messo Dai Sto recuperando Sto recuperando Magari Per il podio sarà dura Però almeno Almeno Tra i primi Posso arrivare Eccoci qua Nelle rovine di Twomp Settima corsa di oggi Qualcuno addirittura Aveva selezionato Anche la pista Arcobaleno Ma secondo me Ne esce oggi Primo o poi Esce la pista Arcobaleno Ok Non ho preso Nessun power up Non ho preso Nessun power up Buono Dai che sono terzo No il guscio rosso No grazie Non so che caspita È successo Però ho preso Quello verde Non so che caspita È successo Quello rosso È esploso Meglio così Meglio così Visto che poi Alla fine Comunque mi ha preso Quello verde Ok Mi ha appena passato Fede Ok Bisogna anticipare Tutti Tutte le curve Qua Ok Dai che sono sesto Sono fisso Al sesto posto Ok Devo ricordarmi Che lì posso Tagliare Oddio Ho preso qualcuno Poi ci siamo Toccati in dieci Oddio L'ho citato troppo forte Vado troppo forte Signori Troppo forte Ecco il pallottolo bill Che ho evitato Dai che deve uscirmi qualcosa di buono Deve uscirmi qualcosa di buono Ammazza queste curve qua Sono velocissime Oddio Rischiavo di andare fuori Ok Perché a me il pallottolo bill Non esce mai Ok Dov'è che posso tagliare Qua Ok Buono Mi ricordavo che c'era La possibilità di tagliare Infatti Visto che avevo i funghetti Ho deciso di Sfruttarla come cosa No non piantarti lì Eeeh Ok Non ci ho guadagnato nulla Però non ci ho guadagnato nulla Vi siete allenati In 200 cc Però vedo eh Vi siete allenati Signori Ok Più o meno io sono fisso A centro classifica Ok Peccato Caspita Ne avevo tre lì davanti Mi accontento Della settima posizione Comunque Oggi va così Oggi va così Comunque sto recuperando Qualche punticino Non so se riuscirò a battere Il mio record Ragazzi di punti Comunque Ci posso provare Ok ragazzi Ottava corsa di oggi Siamo nella valle Degli Yoshi Speriamo di fare Un po' di almeno qua Ok buono Devo ricordarmi Quella S Brutta partenza Brutta partenza Ah ho mancato il power up Ok devo ricordarmi Questa cosa qua Perché molti Cascano giù qua Quindi potrei Approfittarne Evitando magari Di prendere anche La banana ragazzi Perfetto Dai Mi serve un power up Ok Perché Veloci No Caspita Sono volato fuori Accidenti Ok no Troppo forte Oddio Troppo forte Signori Troppo forte Vai Ok buono Sono proprio ultimo Sono proprio ultimo Adesso devo recuperare Ok Buono Buono Dai che sono dietro Alessandro Mi metto in scia Magari non troppo in scia Perché potrebbe avere Qualche sorpresina Per me Passiamo qua Un po' Larghi Stellino No Mazza come ho stretto La curva qua Signori Mazza come ho stretto La curva Ok No ho sbagliato Oh il pallottolo Bill Signori Il pallottolo Bill Adesso faccio una strage In mezzo alla pista Mazza che recupera No L'uovo Eh no Caspita L'uovo non ci voleva L'uovo non ci voleva Peccato perché avevo recuperato bene Attenzione il guscio verde Lì Ok Leo Gabri A tutta velocità Caspita Avevo recuperato bene Poi ho preso l'uovo In faccia Praticamente Ok Passo di qua Io signori Ok Vado a toccare tutti i muri Che ci sono Peccato Mi ci vorrebbe adesso Il pallottolo Bill Mi ci vorrebbe adesso No Troppo stretto Eh Caspita Ok Ok Troppo forte Troppo forte Oddio ragazzi Che pelo Oddio Che pelo Ok Dai No Caspita Settimo Ottavo Non ho capito più niente Ragazzi Settimo di nuovo Bella corsa però Bella corsa C'è stato un momento Che ero vicinissimo Al podio Peccato Però comunque Sto conquistando Un buon numero di punti Mi sto rifacendo sotto Adesso non so se ce la faccio Per il quarto posto Però mi sto rifacendo sotto Mi sto avvicinando ad Ale Ok ragazzi Eccoci qua Nella mia pista preferita La pioggia smack Qua praticamente Raramente fallisco Spero che mi escono Di buoni power up Una partenza Così così Ok Eh Non c'erano più Non c'erano più power up A disposizione Non c'erano più power up A disposizione C'erano gusci verdi Che arrivavano a destra E a manca però Questa banana qua Potevo risparmiarmela E vabbè Si parte A rincorrere tutti gli altri Naturalmente Attenzione gusci verdi Ecco lo sapevo Ho visto che Qualcuno di voi Ce li aveva Caspita Sono indietro Molto indietro Molto indietro Signori Tanto indietro Ok Se vado a toccare Tutte le barriere Però Non ne esco Non ne esco Ok Mi devono uscire I power up buoni Mi devono uscire I power up buoni Funghetti per esempio Vanno bene Eh Non ho fatto niente L'ho forse anche sfruttato Non granché Bene Non l'ho sfruttato Granché bene Oggi è dura Oggi è dura Peccato perché L'altra volta Era andato molto Molto bene Addirittura avevo portato A casa la vittoria Però siete tutti Molto molto preparati Oggi Probabilmente avete giocato A Mario Kart Tutta la settimana Io continuo Andare a toccare Barriere a destra Manca Che mi fanno perdere Ore Ok Ultimo giro Però sono troppo Troppo indietro Questo va bene Come power up Però Pensavo qualcosa di meglio Ok No Oramai siamo alla fine Mi sa che Non ce la faccio Non ce la faccio Ok Incredibilmente ho evitato Un Eh Niente da fare Ho evitato un guscio rosso Incredibilmente Però devo accontentarmi Purtroppo Della decima posizione Vince Gabri Secondo splatter E terzo Leo Eh peccato Peccato Però ho guadagnato Altri punti su Ale Sto rincorrendo Praticamente lui Perfetto ragazzi Decima corsa Siamo nella pianura Ciambella Speriamo di fare Qualcosa Di meglio Rispetto alla spiaggia Smack Ok Perfetto Era un po' indeciso Se far partire i semafori Oppure no L'esplosione del motore Mi mancava Ogni volta ragazzi Almeno una volta Devo far esplodere il motore Almeno ho preso il power up Però Ok Un guscio rosso Signori Un guscio rosso Che sfrutto subito Amo i gusci rossi Quando sono da lanciare Non li amo Quando mi prendono Ragazzi Ok Buono Lì C'è una scorciatoia Devo ricordarmela Ok Larghissimo Dai che sono sesto Bel torneo ragazzi Bel torneo Ho tagliato troppo Però Ok Ho evitato un guscio rosso Ok Qualcuno ci ha Rimpiccioliti Guardate Leo Come fila Mini Leo Anzi Perfetto Ok Usiamo questo Oh c'era un cartello Sono riuscito a prenderlo E sono riuscito Pure ad arrampicarmi Sulle piante Ragazzi Incredibile Ok Intanto sono sempre sesto Davanti vanno come delle schegge Per recuperarli Ho bisogno di Un qualcosa di Veramente ottimo Questi vanno bene Però Magari Non proprio qua E Largo Splat Simo Ha Avuto L'opportunità di utilizzare Il pallottolo Bill Oddio E' uscita Proprio mentre stavo passando io E' una sfida tra me Ah le devo arrivare No Caspita E' arrivato davanti lui Vediamo com'è finita ragazzi No E' arrivato davanti lui ragazzi E' arrivato davanti lui Peccato Caspita Se no potevo recuperare gli altri punti Adesso vediamo la classifica Se me la carica Eccola qua ragazzi Niente da fare Ah Addirittura ha superato Splat Simo ragazzi Addirittura ha superato Splat Simo Ok Intanto Crisi Sta dominando il torneo Ok signori Penultima corsa di oggi Parto dalla prima fila Perché qualcuno Ha deciso di fare una sosta Ai box Oppure ha avuto qualche problema Alla linea internet Vai Ok Stavolta non è esploso il motore Attenzione che vado davanti a tutti No Mi hanno spinto Eh non sono riuscito a prendere il power up Mi hanno spinto fuori Io freno Poi riparto Sempre terzo Ok Gente che viene presa da gusci verdi Qua bisogna stringere un sacco Magari non così tanto Sono secondo Leo là davanti Ok Non bisogna atterrare troppo lunghi Se no si rischia questo Siamo atterrati tutti lunghissimi Ok Lancio un guscio Rosso Mi è apparso una banana davanti Incredibile Ok mi avete recuperato tutti quanti Adesso mi serve Eh però mi serviva un power up Ok Qualcuno mi ha preso Aveva tre gusci rossi addosso Ok Devo ricominciare la rincorsa verso il primo posto Ok Power up Va bene Dai Dai Questi qui me li tengo Atterro Ok No Ho tagliato troppo E mi sono piantato sull'erba Ho tagliato troppo signori Ho tagliato troppo Tanto sono sempre quarto Là davanti vanno come delle schegge Attenzione Dani No Crisi si è Bloccato Questo me lo tengo Me lo tengo un attimo Ok mi stanno recuperando da dietro Ammazza sono Ero Secondo Sono Ultimo Ok frena 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 No Eh no il muro no però Il muro no Ok Caspita Non ci voleva No Dai Non ci credo Non ci credo signori Non ci credo Beh che ci prendiamo continuamente Sportellate Destra manca Ale là davanti Dai Caspita Devo recuperare punti su di lui Niente da fare Settima posizione Peccato perché sono stato addirittura anche secondo Essendo che siamo In questa gara solo in otto Arrivo praticamente penultimo Accidenti Niente da fare Niente da fare ragazzi Ok ragazzi Ultima corsa di oggi Ve l'ho detto che Avremmo giocato almeno una partita su una pista Arcobaleno Ok Una partenza molto molto lenta Prendiamo questi Ok Prendiamoci anche un po' il power up Attenzione Qua no Eh lo sapevo E forse ho anche sprecato il guscio rosso ragazzi Ho sbagliato la curva Troppo stretta l'ho presa L'ho presa troppo stretta Ok Eh ma 200cc è dura 200cc è dura Ok Stellina Evito una bomba Ok Perfetto almeno ho evitato le palle lì Ok Dai che sono quinto Siamo nell'ultima parte Nell'ultima parte La più forse complicata Ok Stellina Dai Dai No Sono volato fuori Accidenti All'ultima curva All'ultima curva Non ci credo ragazzi Non ci credo Non ci voleva All'ultima curva ho sbagliato E sono volato fuori E mi tocca accontentarmi dell'ultima posizione Accidenti Ero quarto Mi sono praticamente bruciato la gara E vabbè Andata così Che sfortuna ragazzi Proprio all'ultima curva Vabbè Pazienza Andata così Signori Abbiamo completato il numero di corse o gare previste Adesso andiamo a vedere la classifica generale Molto bello come torneo Vediamo in che posizione Sono finito Allora vince questo torneo Con 130 punti Crisi Secondo Gabri Con 98 punti Terzo Un altro ragazzo di nome Gabri Con 87 Poi quarto Manu 05 Con 67 punti Quinto Splatter Con 64 Sesto Splatsimo Con 62 Settimo Ale Andro con 17 punti E dodicesimo Niki Con 1 punto Perfetto ragazzi Allora Complimenti a tutti quanti Congratulazione naturalmente Ai primi 3 che sono arrivati sul podio Come sempre Mi sono divertito un sacco Spero che anche voi Abbiate passato una bella oretta In compagnia Considerate che questi tornei Ragazzi Li giochiamo più che altro Per giocare tutti insieme Non mi interessa dimostrare Di essere un pro Come vi ho sempre detto Più che altro È per Passare un'oretta Piacevole E giocare tutti insieme Ragazzi Come sempre Spero che questo video Vi sia piaciuto Naturalmente La prossima settimana Ci sarà un altro torneo Se vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo In un prossimo episodio Sempre qui Su Mario Kart 8 Per Wii U Alla prossima ragazzi